In questa video lezione approfondiremo i dettagli del procedimento in conferenza di servizi ed in particolar modo la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona. La conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona è stata introdotta nell'ordinamento a seguito della riforma della pubblica amministrazione avviata con la legge 124 del 2015, la cosiddetta riforma Madia. Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta nella conferenza di servizi effettui autonomamente le proprie verifiche e trasmetta la propria determinazione all'amministrazione procedente, nel nostro caso il SUAPE, in maniera del tutto autonoma senza tenere alcuna seduta collegiale che sia essa in presenza o con modalità telematica, come invece avviene nella conferenza di servizi in modalità sincrona. L'indizione della conferenza di servizi viene inviata dal SUAPE subito dopo la trasmissione della documentazione agli enti terzi competenti per le verifiche che abbiamo visto nelle apposite videolezioni. Nell'atto di indizione il SUAPE deve comunicare una serie di dati. Il termine per richiedere le integrazioni che, secondo la legge regionale 24 del 2016, è di 15 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione agli enti terzi. Quindi se la data di trasmissione della documentazione e la data di indizione non dovessero coincidere perché il SUAPE effettua i due passaggi in due momenti distinti, occorre ricordarsi che il termine per le integrazioni è di 15 giorni dalla data di trasmissione che normalmente è precedente a quella di indizione. Dopodiché deve precisare il termine per l'invio delle determinazioni da parte degli enti coinvolti che decorrono sempre dalla data di trasmissione della documentazione anche nel caso di trasmissione automatica. Il termine nei casi ordinari fissato dalla legge regionale 24 del 2016 è di 30 giorni, elevati a 55 nel caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria o in alcuni casi particolari ci sono dei termini superiori, tipicamente 90 giorni, sono i casi indicati puntualmente nell'articolo 18 delle direttive regionali SUAPE. Inoltre, nell'atto di indizione il SUAPE deve indicare la data dell'eventuale seduta in modalità sincrona che si terrà qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non fosse risolutiva. La data della seduta deve essere fissata entro i 10 giorni successivi alla scadenza della fase asincrona. In questa slide vediamo una schematizzazione dei flussi documentali in caso di richiesta di integrazioni documentali. Nel caso in cui fossero necessari documenti integrativi, l'ente terzo chiede le integrazioni al SUAPE che gira la richiesta di integrazioni all'interessato e contestualmente, se le integrazioni sono state chieste nei termini di legge, comunica la sospensione dei termini della conferenza a tutti gli enti terzi coinvolti. Quando il cittadino trasmette le integrazioni o in caso di decorso infruttuoso del termine concesso per provvedere alle integrazioni stesse, il SUAPE trasmette le integrazioni, se ovviamente queste sono state presentate a tutti gli enti terzi coinvolti, e fissa nuovi termini della conferenza di servizi che comunica agli enti terzi e al cittadino interessato. In caso di richiesta di integrazioni effettuata nei termini, i termini della conferenza di servizi sono quindi sospesi e vengono riavviati dalla data in cui il SUAPE trasmette le integrazioni ai soggetti coinvolti, oppure dalla data in cui il SUAPE comunica ai soggetti coinvolti che i termini assegnati sono decorsi infruttuosamente. È molto importante ricordare che anche in caso di mancata integrazione da parte dell'interessato, i termini devono sempre essere riavviati, e tutti i soggetti coinvolti nella conferenza di servizi sono tenuti a esprimere le proprie determinazioni sulla base della documentazione acquisita agli atti del procedimento. Laddove la documentazione non fosse sufficiente ad esprimere un parere favorevole, si chiuderà con un parere negativo, il quale deve essere comunque espresso sempre. La richiesta di integrazione, infatti, non si trasforma mai automaticamente in un parere negativo, anche in caso di mancata integrazione da parte dell'interessato. Le direttive regionali prevedono alcuni casi particolari in cui vengono riavviati da zero i termini del procedimento e quelli della conferenza ai servizi. Il primo caso è quello in cui uno o più enti coinvolti segnalano la carenza degli elementi minimi essenziali per l'effettuazione di qualsiasi verifica o la necessità di integrazioni di particolare rilevanza tali da configurare la necessità di una nuova istruttoria per una pratica particolarmente carente, quindi. Il secondo caso è quello in cui l'interessato in corso di istruttoria si trovi a rettificare una o più dichiarazioni contenute nella pratica a seguito delle quali coinvolge di fatto ulteriori enti e aggiunge ulteriori endoprocedimenti alla pratica. In questo caso chiaramente i termini devono essere fatti ripartire da zero. È diverso il caso in cui fosse il suo ape per suo errore a dimenticarsi di coinvolgere uno o più enti e li dovesse aggiungere successivamente. In questo caso i termini della conferenza dei servizi dovrebbero essere fatti ripartire da zero ma quelli del procedimento rimangono invariati in quanto non si tratta di un errore del cittadino. Il terzo e ultimo caso è quello in cui l'interessato spontaneamente trasmetta nuovi documenti tali da modificare in modo sostanziale l'oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi. In questo caso cambiando le carte in tavola diciamo così nel corso del procedimento i termini vengono riavviati integralmente. Abbiamo visto che la legge prevede che le richieste di integrazioni documentali devono essere formulate entro 15 giorni dalla data in cui il suo ape trasmette la documentazione agli enti competenti per le verifiche. Nel caso in cui gli enti terzi facessero richieste di integrazioni documentali in ritardo quindi oltre i 15 giorni concessi dalla legge eventuali richieste tardive non comportano alcun obbligo in capo all'interessato, alcuna sospensione dei termini della fase asincrona della conferenza ai servizi e alcun differimento del termine finale di conclusione del procedimento. È buona regola che il suo ape giri comunque questa richiesta all'interessato affinché se desidera provveda comunque alle integrazioni ma non sospende i termini del procedimento è la conferenza ai servizi. La legge regionale 24 del 2016 a differenza della normativa statale non contempla il caso della scia condizionata. A differenza della normativa statale infatti quando abbiamo una conferenza di servizi gli enti competenti per le verifiche sugli endoprocedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione non sono certamente tenuti ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza dei servizi ma devono compiere le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge entro il termine di conclusione della conferenza asincrona, in caso appunto di conferenza di tipologia asincrona, oppure entro la data della seduta in caso di conferenza che si svolge direttamente in modalità asincrona. La legge regionale 24 del 2016 precisa che nell'ambito della conferenza asincrona le determinazioni degli enti coinvolti sono rese nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma. Questo significa che i vari soggetti coinvolti nella conferenza di servizi non devono rilasciare il vero e proprio provvedimento autorizzatorio di propria competenza ma devono esprimere un parere che è riferito esclusivamente alle verifiche di propria diretta competenza e che prescinde dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti coinvolti nella medesima conferenza. Questo perché sarà poi il suo ape a chiudere il cerchio e a mettere il provvedimento favorevole solo in caso di unanimità di pareri favorevoli ricevuti. E questo anche perché le verifiche dei diversi soggetti devono avvenire in parallelo e non sequenzialmente. Le determinazioni dei soggetti coinvolti tenuti a esprimersi appena di inammissibilità devono avere una congrua motivazione, devono essere formulati espressamente in termini di assenso o di dissenso e in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento oppure devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se fossero di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto. La norma ci dice che alla scadenza dei termini concessi alle amministrazioni per esprimersi, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione delle determinazioni entro i termini, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi di cui ha l'allegato B alle direttive su APE è contenuto per ogni endoprocedimento rientrante nell'ambito della conferenza di servizi la precisazione se si applica o no il tacito assenso in conferenza di servizi e nel caso in cui questo non si dovesse applicare di regola è precisato che si tratta di autorizzazione prevista dalla normativa dell'Unione Europea. Le direttive su APE precisano che il tacito assenso nell'ambito della conferenza di servizi si applica anche ad uffici diversi del medesimo ente presso il quale è istituito il su APE, quindi ad esempio nel caso di SUAP comunale nei confronti dell'ufficio tecnico comunale per l'endoprocedimento di tipo edilizio. Non si applica invece il tacito assenso alle amministrazioni che non sono tenute a esprimersi in quanto competenti per endoprocedimenti rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione. Conseguentemente nel provvedimento unico finale non si deve dare atto che sia formato il tacito assenso nei confronti delle amministrazioni tenute a effettuare delle semplici verifiche ma bisogna dare atto semplicemente del fatto che hanno trasmesso o non hanno trasmesso eventuali segnalazioni dell'esito negativo delle verifiche e questo vuol dire anche che non è necessario attendere la conclusione del termine della conferenza di servizi assincrona se tutte le amministrazioni tenute a esprimersi si sono comunque espresse. Una volta decorso il termine conclusivo della conferenza di servizi assincrona i soggetti coinvolti possono trasmettere le proprie determinazioni solo nell'esercizio del potere di autotutela quindi in presenza dei presupposti previsti dagli articoli 21 quinquies e o 21 nonies della legge 241 del 90 anche prima dell'adozione del provvedimento finale. Questo in quanto ai sensi dell'articolo 2 comma 8 bis della legge 241 del 90 ogni determinazione espressa tardivamente è inefficace. Il suape pertanto non può essere ritenuto responsabile per non aver considerato un parere tardivo non espresso nell'esercizio del potere di autotutela in quanto lo stesso è inefficace ex legge. Per la conclusione della conferenza di servizi in fase assincrona è utile distinguere tre distinti casi. Nel primo caso se nella conferenza di servizi assincrona sono pervenuti solamente pareri positivi non condizionati anche impliciti quindi tramite tacito assenso oppure pareri condizionati ai quali tuttavia non è necessario adeguare il progetto nel senso che contengono una serie di prescrizioni e precisazioni che non comportano la modifica progettuale oppure dei pareri condizionati a cui l'interessato si è adeguato effettuando opportune modifiche alla pratica originaria senza che siano necessarie ulteriori verifiche da parte degli enti coinvolti. In questo caso il suape provvede direttamente all'emissione della determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi non ci sarà nessun verbale in quanto non c'è stata nessuna seduta. Il secondo caso prevede che nell'ambito della conferenza di servizi assincrona sia pervenuto almeno un parere negativo fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabile con modifiche progettuali anche rilevanti ovvero basato sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza. In questo caso il suape emette una determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce gli effetti di cui all'articolo 10 bis della legge 241 del 90. Questo significa che in questo caso particolare la sequenza normale degli atti viene invertita anziché trasmettere prima la comunicazione di motivi ostativi e successivamente il provvedimento negativo. Il suape emette direttamente il provvedimento negativo malinteressato ha facoltà entro i dieci giorni successivi di trasmettere eventuali osservazioni o opposizioni. Se non trasmette nessuna osservazione il provvedimento negativo diventa definitivo e la pratica è da intendersi chiusa definitivamente. Se invece trasmette osservazioni il suape riavvia una nuova conferenza in forma asincrona per l'esame delle osservazioni e per l'emissione del provvedimento definitivo. Il terzo e ultimo caso è residuale rispetto ai due casi appena visti. Quindi in tutti gli altri casi tra cui sono presenti i paredi negativi superabili, ci sono modifiche che comportano nuove verifiche da parte dei soggetti coinvolti, vi sono comunque dubbi sull'esito della fase asincrona. In questi casi il suape convoca la seduta in modalità sincrona nella data che aveva predeterminato nell'indizione della conferenza asincrona. La convocazione deve essere inviata entro due giorni lavorativi dalla conclusione della fase asincrona e con un preavviso minimo di tre giorni per tutti gli enti terzi coinvolti. In ogni caso è bene sottolineare il suape deve inviare una convocazione per far sapere agli enti coinvolti che si terrà una seduta in modalità sincrona.